buongiorno ragazzi oggi siamo al vallone è la prima volta come inizio non c'è male eccoci qua pronti per secondo giro abbiamo incontrato pure gli amici di attacchi verticali simpaticissimi ok so la maschera no io da l'altra parte madonna quanto so belle tra le cese che diventi da morì lo fa vedere qua prima vabbè se potrà far tranquillo secondo problema e so gli atterraggi che se guarda che lo becca qua se becchi le pietre dicevo sui salti non risponditi eh so gli atterraggio non so gli atterraggio C'è il roio Vi lascio il link Qua E' bellissimo Ma Per il pallone C'è Tanta roba Cagliardi e Tosti sta bruciati ragazzi Sono proprio forti C'è niente da fare Bello C'è guarda qua Do sta' sto capo No Ah 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 Esagerata Uff Scusate cosa posso rivittatore Muro nero O rampeggia Io direi andiamo a vedere la rampeggia Ecco Che figo Che figo Che figo Che figo E' 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 Fa un pochetto step C'è un po' di free ride Che spettacolo Ma vede sotto Pezza paura Pericolo te che Le scese Rocky Rampage Baby Gang E ora proviamo pure pace Vediamo che dice il pallone c'è veramente spettacolo un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.